Che vogliamo farci? Come fai? Tu vieni fuori al clima e non al clima? Che fai? Non pensi al sesso secondo te? Non pensi al sesso? Passate a mano nel neve! Prendiamoci le baci! Allora che fai? Si deve distrarre! Che devo fare? Non c'è un po' ove suvi! Ove suvi proprio no! Ho paura! La c'è stato il pericolo di erezione! Ma mezza miseria che io stesso te l'angava! La scoppia! Ma se io ti accettiamo clima a te come scoppia! Ma c'è stato animale! E' eruzione! E' eruzione! E' capito? L'eruzione! L'eruzione mi sta facendo! Ma faccio una tappa a Capri! Io mi faccio una tappa a Ercolano! Tu ti vuoi fare una tappa? Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Pizzaiolo! Ma non lo vieni! E' sempre là! Capri a Mezzomara! Ti prendi una bella barca! Ti prendi il Rema! Va a Mezzomara! E' giusto? Facciamo una cosa! Quest'anno niente è barca! No! Ma sono già iscritto alla scuola in Atica! Si si! Si va a Baracca! Ma la cuculo per terra! No! La scuola in Atica! Adesso prendi le patente per il motoscafo! Tu vuoi dare un motoscafo! Rapparuto al portare! E' che ce c'era la scuola in Atica!